Non sono in grado di dire altro, è certo che far sentire l'affetto paterno nei confronti di uno sacerdote che può avere sbagliato e naturalmente il pensiero va anche a chi ha avuto modo di incontrarlo, non so che altro dire, siamo in attesa dell'indagine e sotto l'indagine non è possibile incontrarlo, sono in attesa di avere i raguagli da parte del, se dovessero esserci delle situazioni di gravità e la procedura, le nuove procedure invongono che si interpelli la congregazione della fede che poi dirà se aprire un processo di ocesano oppure so avvocheranno direttamente a loro, niente di più, per adesso non so dirvi altro. Mi scusi, quello che è successo l'anno scorso a ottobre, quindi l'allontanamento dal paese di Zungri, può centrare qualcosa? Questa è altra cosa, non ho da che vedere con la vicenda di cui adesso è chiamata in causa, lì c'erano problemi anche di salute, la mamma e così via, quindi un insieme di cose.